Lei cambierebbe banca perché? Nel migliorare. E in che cosa migliorare? Nelle spese. Sempre sotto il fido, no? Ok. Cioè qualcosa è, ti levano un assegno. La cambierei per le persone. Cioè se riesco a trovare una banca in cui riesco a trovare delle persone che un'ispirano fiducia, in cui si instaura il rapporto anche di amicizia familiare, cambierei banca. Cioè 80 euro di spese in più. Ma questo è un problema che avevo prima, adesso non ce l'ho più.